Grazie signora Presidente, buon pomeriggio a tutti. Noi siamo qui oggi per testimoniare con forza, con energia e con passione l'importanza del rispetto dei diritti umani in Iran. Non ripetiamo gli errori del passato, non lasciamo da solo questo popolo al suo destino. Ogni volta che volgiamo lo sguardo dall'altra parte, quando gli interessi economici sopraffanno l'uomo e i suoi diritti, quando la dignità dell'uomo e la sua libertà sono messe in dubbio, si produce sempre la presa del potere da parte di coloro che sono abili a sfruttare l'indifferenza internazionale e le paure del popolo, come una miccia d'innesco per la propagazione di false libertà che portano all'agnentamento dei diritti umani. Mi rivolgo a coloro che usano egoisticamente e responsabilmente il potere teocratico in Iran. Siate coerenti con il credo che dite di professare. Mettete in pratica il saluto di pace, shalam. Si rispetta la legge di Dio solamente se si garantisce all'uomo la libertà, quella libertà che Dio gli ha donato. La storia vi giudicherà, i vostri figli vi giudicheranno. Noi personalmente siamo vicini a tutte quelle donne coraggiose che hanno rischiato la loro vita, il rischio della libertà, che scommettono sulla libertà e che lottano per conquistare ogni giorno quello spazio in più nella vita sociale, civile, politica ed economica. Non si può scendere a compromessi con un regime che chiede la legittimazione di un governo sanguinario. Non esiste moderazione nel bene e nel crimine. Dobbiamo stimolare anche gli organi internazionali al fine di promuovere nuove indagini sulle violenze dei diritti umani in Iran. Noi siamo al vostro fianco. Noi siamo pronti. Grazie, signora Presidente. Grazie alle donne coraggiose. Grazie a tutti voi.